Dieci giorni di festa e tradizione, tornei e convivi, dibattiti e momenti solenni. Masnago torna ad abbracciare il suo palio dal 19 al 29 giugno. 45 anni di festa, una festa che non si è mai fermata neanche nei periodi difficili della pandemia e che però da quest'anno riparte a suo pieno regime. Le contrade sono pronte a sfidarsi su una giostra di partite, gare di abilità, fermarestando l'unica autentica protagonista del palio, la comunità di Masnago. In particolare sono stati predisposti alcuni momenti sportivi per i ragazzi dai 10 ai 18 anni e relativa ad alcuni tornei con invito anche di altri oratori rispetto al svolgimento di gare di pallavolo e di calcio. Venerdì 23 giugno spazio al dibattito e al libro di Carlo Zanzi presentato da Paolo Costa. Quest'anno abbiamo invitato a presentare il suo libro La strada per le stelle, Carlo Zanzi, giornalista e scrittore di Varese, ex docente della scuola media Vidoletti, quindi anche professore di molti masnagesi. Il programma, disponibile sulla pagina Facebook del palio, comprende una gustosa tavolata, la grande sfilata di abiti da sposa, musica, allegra e scorpacciate, Tutto per celebrare la vita attraverso l'appartenenza a una lunga storia chiamata Masnago. Vuol dire rivivere le tradizioni che legano questa comunità da tantissimi anni.